Ennesima riunione della Commissione regionale questa mattina sulla faccenda Cervi che però arriva dopo che il Tar si è già espresso respingendo il ricorso presentato dalle associazioni contro la delibera regionale che consentirà dal 14 ottobre la caccia al cervo. Commissione che arriva dunque forse tardivamente ma che ha come oggetto comunque la risoluzione presentata dalle minoranze, le polemiche non si spengono. La Regione potrebbe tornare sui suoi passi ma non ci sono aperture, del resto sia l'assessore Imprudente che il Presidente della Commissione che la maggioranza tutta hanno più volte ribadito che il problema va disciplinato e risorto. Non ci sono ripensamenti, andiamo avanti, è una decisione che è stata assunta da questa maggioranza, anche il Tar si è espresso sulla legittimità degli atti compiuti, vorrei ricordare a tutti che comunque già da una legge del 92 questa specie è all'interno di animali cacciabili, quindi ne dobbiamo anche affrontare quelle che sono anche le alte sfaccettature come i danni all'agricoltura, l'incolumità pubblica e quant'altro. Non siamo delle persone incoscienti ma abbiamo anche il dovere di dare delle risposte anche ad altri settori. Il destino di 469 cervi in Abruzzo è quindi segnato nonostante la campagna svolta dalle associazioni che ha portato a raccogliere oltre 130.000 firme. Le associazioni valutano se ricorrere al Consiglio di Stato anche perché per loro c'erano tantissime soluzioni alternative e invece con la scusa degli incidenti e dei danni all'agricoltura si legittima una vera e propria mattanza. Al di là della risoluzione presentata la posizione delle minoranze è durissima. Regione Abruzzo non si sta assumendo alcuna responsabilità e quindi pensa di far risolvere il problema degli agricoltori o il problema degli incidenti stradali ai cacciatori che con una cifra irrisoria che viene pagata agli ATC quindi a denti privati sono in grado poi di portarsi a casa un patrimonio anche di valore rispetto alla carne di cervo che potranno in qualche modo poi incrementare nel proprio patrimonio personale. Quindi si tratta semplicemente di voler scansare il problema e di permettere ad una categoria ben precisa, evidentemente una lobby ben precisa, di potersi quasi divertire facendo finta o lasciando intendere o comunicando all'esterno che si sta tentando di risolvere il problema.